Sono con l'avvocato Angiolini per un'operazione particolare, ora lei mi regge il microfono, grazie, e leggo, mi è arrivato dal comune d'Arezzo, gentile elettore, e la prima domanda è come mai si diventa gentili? Dopo, me lo dici dopo. L'amministrazione comunale ha individuato alcune sedi del seggio elettorale per non interrompere la scuola, hanno spostato il seggio, e io per interrompere invece questa rottura di coglioni che ho del fatto che i politici, ma non che abbia niente col sindaco, ce l'ho in generale con tutti, questa è la mia scheda elettorale, ecco, e come disse Corvorosso non avrà il mio scalpo, la strappo, perché non mi interessa più votare, io da ora la fiducia al voto lo do dopo, perché quando io vado a fare uno spettacolo, mi pago un dopo, e se non ho fatto ridere la gente, non mi pagano un cazzo, mi è toccato fare le cause, capito? Quindi da ora io la fiducia la do dopo, capito? Anche la Meloni che vuole, allora prima governa, fammi vedere che sei brava, e dopo ti do il voto. I comunisti, Rizzo, beh, vuoi governare, mi piaci, dopo però, anzi dopo. Dopo, a lui a Rizzo dopo, sono d'accordo. In cosa incorro? In niente, perché il diritto di voto, come dice appunto il termine stesso, è un diritto che ha il cittadino, ma non è un dovere, nel senso che non è un dovere sanzionato penalmente se uno non va a votare o decide di strappare la propria tessera elettorale. D'altra parte è una forma di protesta che io condivido, perché io stessa sono veramente scocciata di quella che è l'attuale situazione politica. Tutti i partiti di governo sono tutti insieme, qui devo usare un modo di dire ma non tirano fuori un ragno da un buco, perché dalla Morgese continua a essere dov'è e abbiamo la continua invasione di estracomunitari, poi abbiamo l'invasione dei rap, il rev, il rav, il rave, che sono quelli lì che fanno questi incontri, questi raduni, ballano, si drogano, si ammazzano, si violentano, nessuno dice niente. Quindi che Italia è questa? Un'Italia di niente. In Afghanistan abbiamo lasciato là 80 studentesse della sapienza, non si sa come fare, perché Di Maio si è scordato che c'erano e non si sa come fare andare a riprenderli. Quindi è un fallimento totale sotto tutti i punti di vista. Anch'io sono molto scocciata, benché sia una donna di destra, perché lo sanno tutti che sono in destra, ma sono molto delusa da questo modo di fare. Non vedo niente di concreto, vedo solo chiacchiere e quindi ha fatto bene il Leo come ha fatto e andare a votare dopo che avrà visto come gli altri governano. Quindi io per carità fiducia nella Meloni, fiducia in Salvini, per niente fiducia in Forza Italia perché sta facendo una politica ambigua e si vede infatti i consensi che perde. Quindi vedremo quando si degneranno di andare a votare perché Leo ha fatto bene anche per un altro motivo, non solo per la mancanza di fiducia nei confronti dei politici, ma per il fatto che non ci manda mai a votare. Noi ci siamo ritrovati un Presidente del Consiglio che se sa chi è, il primo. Il secondo se sa chi è, ma ce lo ritroviamo tra capo e collo. I partiti che avevano vinto ci ritroviamo con il Movimento 5 Stelle che ha aperto un sacco di consensi e Mattarella, il democristiano di sinistra, il Presidente della Repubblica che fa, non ci manda a votare e gli italiani non hanno diritto di votare. In Israele sono cinque volte che votano, una volta dietro quell'altra perché non raggiungono le maggiorate. Noi italiani siamo delle pecore, pieghiamo il capo e non andiamo a votare. Quindi, caro Leo, è fatto proprio bene. Io ho scelto questa forma di protesta e l'unica cosa che c'è di meglio da questa forma ma qui è la forma di cacio. Io non conosco altro. Devo dire la verità, concordo perché a me il parmigiano mi piace tantissimo, il pecorino quello nostro, stagionato. La prossima settimana strapperà la scheda elettorale l'avvocato Angiolino. Questo è un po' più difficile, ma insomma.